Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Ho occhi solo per te. Quattro occhi vedono meglio di due. Quante cose si dicono sugli occhi? Noi di Otti Cazzaccuri non usiamo frasi fatte, ma solo prodotti, strumenti e metodi collaudati per la cura dei vostri occhi. Il controllo professionale della vista e dello stato di salute degli occhi con test specifici. Le lenti a contatto, anche multifocali, giornaliere e mensili. Utili ai portatori di lenti a contatto per un maggiore comfort, lacrime artificiali a base di acido ialuronico, echinacea, ginkgo biloba. Occhiali con lenti progressive a partire da 279 euro con garanzia di adattamento. Lenti e montature grandi marche, tra le tante Ray-Ban, Versace, Vogue, Polaroid. Otti Cazzaccuri, via Umberto Primo 23, Bova Marina, telefono 0965 761970. Otti Cazzaccuri, per il benessere dei tuoi occhi. Nuovi arrivi, occhiali da vista e da sole, trattamento antiriflesso in omaggio per i tuoi nuovi occhiali da vista.